La voce insieme al tamburo è sicuramente lo strumento più antico della storia dell'umanità. La Puglia, poiché è stata abitata fin da tempi antichissimi, sicuramente fin dove c'è traccia di civiltà, lì dove c'è un tamburo, c'è presenza di musica, sicuramente c'era anche il canto. La musica de Terraros cerca di mantenere quelle che sono le caratteristiche del canto tradizionale, sicuramente la caratteristica predominante è la coralità, la presenza dei cuori e dei controcanti, così come fondamentale era anche un'impostazione vocale che si avvisiva in maniera naturale, senza studiare, senza approfondire una tecnica, perché era tutto molto istintivo. Quindi l'esigenza di farsi sentire da un campo all'altro, da un albero all'altro, portava questa voce naturalmente a risuonare nelle cavità del viso, nella maschera, per creare proprio potenza sonora nella voce.